Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Carolina. Lo scorso 15 ottobre mi sono laureata nel corso magistrale in scienze ambientali presso l'Università dell'Insubria di Varese. Ho deciso di specializzarmi nel ramo chimico tossicologico. A novembre ho vinto una borsa di studio presso l'Istituto Nazionale dei Tumori a Milano e ad oggi collaboro con l'ospedale maggiore policlinico di Milano al registro mesoteliomi in Lombardia. L'università è una scelta molto importante, quindi scegliete con criterio il vostro futuro.